Un all-in roadmap per il comparto aeronatico della Campania, il tema del workshop che si è tenuto nelle splendide sale di Villa Campolieti a Portici, del centro specialistico di alta formazione aeronave. I lavori sono stati aperti dal direttore generale dello STOA Enrico Cardille, ospito di Rievo, José Emanuel Ramínez Marquez dell'Istituto Stephen, un'università americana di Technology Innovation. I lavori sono stati coordinati nel corso della serata da Enrico Viceconte di STOA e da Alberto Ridonata di Consaer. Durante il pomeriggio si sono confrontati i contenuti di due esempi concreti di un approccio ad una Lean Manufacturing, quella affrontata all'inizio del 2012 da Elena Hermacchi, esposta con ricchezze di dettagli ed interessanti considerazioni dall'ingegnere Raffaele Monaco, direttore dello stabilimento di Popiano d'Arco, e dall'altro modello, quello presentato da Andrea Esposito, amministratore della Laera. Il progetto di Alenia, avviato in collaborazione con Parsh Consulting, nel corso del dibattito qualche professore l'ha definito tecnicistico. Si tratta di un tentativo che comunque ha consentito al gruppo di avviare un processo di efficientamento e riorganizzazione della produzione che nell'arco del primo anno ha ridotto della metà i tempi di attraversamento del prodotto ATR. Il modello di Lean Manufacturing dell'azienda Aeronautica è operativo dal gennaio 2012 ed è finalizzato al recupero di efficienza produttiva nell'ambito di un modello schematizzato nelle sei pale del rotore di ATR, una rappresentazione che rivela l'obiettivo di riconfigurare il modello aziendale alla sfida del programma del nuovo turboelic. Responsabilizzazione del pool di gestione, comunicazione orizzontale e verticale delle informazioni, organizzazione di un modello con un flusso coerente con le cadenze e con la riduzione al minimo dei mancanti, verifiche e controllo dei tempi, infrazioni inferiori alle quattro ore lavorative e soprattutto consapevolezze che il meccanismo deve funzionare affrontando e risolvendo gli scogli emergenti, cioè i problemi, quando essi si rivelano. In effetti i primi risultati sono arrivati, ha dichiarato l'ingegner Monaco, ma molto ancora è da fare sulle lavorazioni del turboelic per raggiungere un'efficienza del 90% e ridurre i costi conseguendo una qualità che riduca al minimo accettabile le rilavorazioni e gli scarti. Una sfida su cui si gioca il destino futuro del gruppo aeronatico italiano. Ma manca ancora il coinvolgimento delle imprese fornitrici, nel progetto non ancora sono state coinvolte le imprese della supply chain. Aziende che dopo l'estate, è stato detto dai rappresentanti di Alain Ermacchi, saranno coinvolte nell'ambito di un workshop che durerà diversi mesi e che le vedrà coinvolte sempre più intorno ai progetti e ai programmi organizzativi del player. L'altro modello, discusso durante la serata, quella avviata dalla Lair, potrebbe essere definito minimale ma efficace, o come l'ha definita Andrea Esposito nel suo intervento, un sistema che funziona se è presente un partecipante in più, il cuore. Chiaramente il sistema di riferimento dell'azienda di Aeroola è fortemente incentrato sulle risorse umane e sostenuto e supportato anche da significativi investimenti, miglioramenti dell'ambiente del lavoro, responsabilizzazione di tutti i lavoratori, siano essi indiretti che operai, tutti fortemente identificati con gli obiettivi dell'azienda e tesi al comune obiettivo di efficientare il sistema produttivo al fine di recuperare la produttività e restare sul mercato. Un progetto che comporta investimenti per riorganizzare i magazzini e le nuove infrastrutture, costi di informazione e logistica. I testi e le verifiche che settimanalmente sono fatti dal pull dell'azienda segnalano risultati positivi. Il recupero dell'efficienza è quantificata da Esposito in un 7%, mentre la riduzione dei costi è ritenuta dal management molto significativa perché è conseguente alla riduzione dei costi prodotti dalla non qualità, che pesa tantissimo sulle PMI del comparto aeronave. Alaer è un'azienda privata che opera nel settore aeronautico dal 1989 con progettazione, produzione e assemblaggi di strutture aeronautiche. Nasce ad Airola ma nel 2004 inaugura un nuovo impianto anche ad Acerra per le lavorazioni in materiale composti. Oggi è uno dei principali fornitori di Alenia Armag, anche se recentemente ha avviato collaborazione anche con aziende austriache. Partecipa a tutti i principali programmi proprietari da Alenia, dal C27G ad Attiete ed è certamente destinata ad essere una delle aziende con un ruolo importante nella catena dei fornitori del nuovo programma del Turboelica. Il workshop a Villa Campoliete si è poi concluso in serata con un confronto tra professori universitari, al quale hanno partecipato Giuseppe del Coro, Emilia Esposite e Carmine Goglia.